puntata numero 181 della rubrica 10 minuti con il legionario siamo in diretta per parlare della nostra Roma una Roma che domani scenderà in campo in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo per affrontare appunto i padroni di casa in una partita molto difficile ma che la Roma vuole vincere anche se il treno quarto posto è comunque molto difficile da raggiungere l'obiettivo comunque di domani è andare in trasferta per cercare di riportare a Roma i tre punti come sempre l'obiettivo deve essere quello di scendere in campo per vincere una Roma che purtroppo non è riuscita a trovare una vittoria che sarebbe valsa la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter martedì scorso una partita che la Roma soprattutto nel secondo tempo aveva in mano poi purtroppo la qualità dell'Inter è venuta fuori complice anche un quarto d'ora il primo quarto d'ora del primo tempo in cui la Roma praticamente non è scesa in campo diciamo un po' stile derby stile derby d'andata partita che la Roma ha dominato per 70 minuti e poi i primi 20 minuti la Lazio ci fece due gol perché la Roma praticamente dormì con un atteggiamento passivo che conosciamo bene che da qualche anno insomma sempre ci accompagna sempre una Roma che è scesa in campo senza senza grinta senza lottare su alcun pallone per cui l'Inter che è una squadra che ha una qualità incredibile è la squadra più forte del campionato e probabilmente si candiderà a vincere lo Scudetto anche se il Milan vincendo il derby ha riaperto qualche fiammella di speranza anche se a mio parere l'Inter rimane comunque la squadra più forte con una qualità incredibile sono riusciti a farci il gol dell'ex con Dzeko hanno sfiorato il raddoppio in diverse occasioni poi la Roma è venuta fuori soltanto dopo i 20 minuti del primo tempo abbiamo avuto una buonissima occasione con Zagnolo un'altra su cross di Mkhitaryan mi sembra che era stato deviato da D'Ambrosio nel secondo tempo una Roma che ha gestito meglio il pallone eravamo entrati in una fase della partita prima del raddoppio di Sanchez in cui i giallorossi stavano gestendo bene la palla abbiamo avuto anche qualche occasione penso al tiro di Sergio Oliveira deviato con la parata di Andanovic anche lì tutti i portieri si svegliano contro di noi Andanovic che ha fatto molte papere quest'anno contro la Roma poi si svegliano tutti ha fatto una grandissima parata il portiere nerazzurro poi ci vuole anche un po' di fortuna fortuna che come al solito non è girata dalla nostra parte e poi sul gol di Sanchez secondo me c'è un fallo netto ai danni di Sergio Oliveira ennesimo torto ai danni dei giallorossi ma questo è un discorso su cui si è parlato moltissimo ed è inutile tornarci io dico soltanto che secondo me il giudizio sulla stagione della Roma viene alterato nel momento in cui abbiamo veramente subito tantissimi torti arbitrali a mio parere poi ognuno ha la propria visione secondo me molte partite se arbitrate correttamente sarebbero potute finire diversamente chiaramente a mio parere ripeto c'è fallo di Vidal ai danni di Sergio Oliveira per cui finisce 2 a 0 l'Inter probabilmente ha meritato di vincere però un conto è fare l'ultimo quarto d'ora sul 2 a 0 e un conto è giocarsi l'ultimo quarto d'ora sul 1 a 0 a maggior ragione che la Roma stava facendo comunque una buona partita sicuramente è mancata un po' di voglia un po' di veleno su questo non ci sono dubbi però comunque rispetto al primo tempo i giallorossi stavano conducendo la gara stavamo costruendo qualcosa non dico che sarebbe arrivato il gol del pareggio però qualcosa in più diciamo che la Roma aveva comunque le chiavi della partita in mano comunque ormai è finita l'Inter è passato giocherà la semifinale il primo marzo la semifinale d'andata contro il Milan una Roma a cui rimane siamo su due fronti la Conference League che deve essere l'obiettivo primario della Roma e poi questo benedetto quarto posto una Roma che in questo momento è settima 39 punti il pareggio con il Genoa che era una vittoria poi c'è stata tutta la polemica insomma sul gol di Zagnolo ha tagliato un po' le gambe alla Roma il quarto posto già era difficile secondo me è uno scontro tra Juventus e Atalanta è chiaro che il campionato ancora è lungo ci sono diverse partite noi dobbiamo crederci l'obiettivo deve essere come ha sempre detto Mourinho quello di entrare in campo e di andare a giocare ogni partita per vincere poi vedremo quello che succederà almeno la speranza è quella di centrare l'Europa League e cercare di fare qualcosa di buono in Conference perché abbiamo tutte le carte in regola per poter andare avanti in questa competizione e dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa la vittoria dopo la partita di Milano si è parlato di uno sfogo secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport da parte di Mourinho nei confronti della squadra si è accesa una polemica incredibile sui social perché Mourinho avrebbe usato parole forti nello spogliatoio io mi chiedo dove sia il problema sinceramente perché credo che dopo una sconfitta tutti gli allenatori siano arrabbiati con i propri giocatori non vedo il motivo sinceramente di accendere una polemica e di creare polemica per cui insomma secondo me ha fatto benissimo Mourinho ben venga che appunto ogni tanto ci sia qualche strigliata nei confronti dei giocatori ecco ha usato parole che non posso ripetere però insomma sul web potete trovare tutto secondo me non c'è nulla non c'è nulla di male in quanto detto dal mister che vuole cercare di migliorare un po' la mentalità dei giocatori che magari ecco diversi giocatori su questo non ci sono dubbi lo abbiamo sempre detto lo diciamo da quando c'era di Francesco insomma la mancanza di personalità questa personalità che la Roma sta cercando di acquisire da quando è arrivato Mourinho questo è il primo passo secondo me l'unico credo e a quanto pare sembrerebbe anche essere la strada intrapresa dalla società e questo a cui credo molto è palla insomma fiducia totale a Mourinho chiunque dovesse essere contro sarebbe sarebbe messo fuori praticamente questo deve essere secondo me l'unico credo perché Mourinho un allenatore che ha vinto più di tutta la Roma più di tutta la storia della Roma messa insieme bisogna insomma dargli fiducia a carta bianca cercare di accontentarlo la società lo ha accontentato anche a gennaio sono arrivati due due innesti importanti il 10 di gennaio già avevamo chiuso il mercato praticamente non è stato ceduto alcun big a giugno probabilmente mi aspetto una vera e propria rivoluzione questo era Mourinho ha sempre detto questo ci vuole tempo bisogna cercare di ridurre questo questo tempo ovviamente però è una Roma a cui insomma il processo di crescita è iniziato dallo scorso giugno da quando da quando è arrivato Mourinho bisogna continuare su questa strada perché molti giocatori sicuramente andranno via non non rimarranno non rientrano nel progetto di Mourinho questo è un anno di transizione è chiaro però che l'anno di transizione va onorato la maglia va sempre onorata e bisogna cercare di chiudere bene in campionato cercando almeno di centrare l'Europa League dal momento che l'obiettivo dichiarato era il quarto posto ma sembrerebbe essere molto difficile è chiaro ripeto che fino a quando la matematica lo permetterà dobbiamo crederci ma l'obiettivo primario adesso dopo aver fallito in Coppa Italia deve essere quello di vincere la Conference League dobbiamo focalizzare tutte le nostre energie lì anche perché abbiamo la possibilità la Roma ha la rosa c'è qualche squadra interessante in corsa però dobbiamo assolutamente cercare di arrivare in fondo a questa competizione una Roma che affronterà il Sassuolo domani ore 18 Sassuolo che è reduce dalla sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia per 2 a 1 un Sassuolo che è un'ottima squadra la squadra di Dionisi gioca un ottimo calcio non sarà facile davanti al loro pubblico settore ospiti sold out circa 2000 tifosi giallorossi partiranno alla volta di Reggio Emilia e colgo ancora una volta l'occasione per fare i complimenti ai nostri tifosi che sono veramente incredibili quando c'è da supportare la nostra squadra e veramente sono pronti a seguirlo ovunque come sempre e speriamo appunto che questi ragazzi possano essere ripagati da una vittoria dei giallorossi ovviamente ripeto sarà una partita difficile bisognerà cercare di improntarla insomma molto sull'agonismo e cercare di chiuderla già dal primo tempo un Sassuolo che è dodicesimo a 29 punti l'Europa è molto difficile per gli emiliani però insomma sognare è lecito diciamo sicuramente i neroverdi andranno in campo per cercare di vincere la partita per cui dovremmo stare attenti non mi aspetto un Sassuolo che si chiuderà in difesa anzi mi aspetto un Sassuolo che come sempre da tutti questi anni a questa parte insomma da quando sono in Serie A per il modo insomma che abbiamo visto da quando c'era Di Francesco vederli giocare anche con Dionisi diciamo che qualcosa hanno cambiato ma il loro credo la loro identità non si è snaturata e cioè quella di non chiudersi in difesa bensì di qualunque sia l'avversario prendere la palla giocare e attaccare il Sassuolo in campionato viene da un brutto 4 a 0 contro la Sampdoria speriamo ecco che qualche contracolpo psicologico ci sia stato e soprattutto speriamo che il Sassuolo sia stanco perché hanno giocato giovedì loro contro la Juventus la Roma invece ha giocato martedì contro l'Inter per cui abbiamo un leggero vantaggio dal punto di vista fisico vantaggio che dobbiamo sfruttare Abram domani partirà dal primo minuto contro il contro il Sassuolo Pellegrini anche dovrebbe partire titolare Pellegrini che si è visto negli ultimi 20 minuti contro l'Inter ha smaltito questa benedetta cicatrice al quadricipite dove si era lesionato il novembre scorso ha sempre questi problemi purtroppo ha questa cicatrice e Pellegrini è stato fuori più di un mese è stata un'assenza molto pesante la sua però domani è pronto a rientrare dal primo minuto purtroppo rientra un giocatore se ne fa male un altro noi lo sappiamo bene cosa significa distrazione del legamento collaterale per i bagnets sarà fuori 5 settimane pronto con mulla in difesa ringraziando Dio con mulla sta giocando bene un giocatore recuperato ecco per cui la cura a Mourinho funziona ecco si è parlato molto anche a me personalmente non era piaciuto il modo dopo la partita contro il Bodo Klimt del 6 a 1 con cui Mourinho aveva messo in tribuna praticamente i giocatori che avevano giocato le riserve tra virgolette diciamo che con mulla alcuni giocatori non sono stati recuperati come Majoral come Villar però diciamo che un giocatore come con mulla è stato recuperato perché inizialmente era fuori dalle gerarchie di Mourinho lo stesso allenatore ha detto si è allenato duramente si è messo umilmente a disposizione della squadra e adesso sicuramente credo proprio che domani partirà dal primo minuto e giocherà titolare in queste partite dal momento che i bagnets purtroppo si è fatto male e starà fuori per cinque settimane e ovviamente al nostro difensore i bagnets auguriamo una pronta guarigione ieri c'è stato un incontro a Trigoria tra Tiago Pinto e la gente di Mancini e Cristante per intavolare una trattativa per il rinnovo Mancini si parla per entrambi e si parla di un prolungamento del contratto con adeguamento ovviamente sullo stipendio fino al 2026 diciamo che di solito queste cose si fanno a giugno ovviamente sono incontri di cortesia questi per limare insomma per intavolare una trattativa poi magari chissà tra qualche settimana già arriverà l'annuncio di questi rinnovi ricordiamo che Cristante nel 2020 aveva prolungato il suo contratto che attualmente scade fino al 2024 e anche Mancini va in scadenza nel 2024 se non erro chiudiamo con la Roma femminile che domani scenderà in campo contro il Como ore 12.30 si parte dallo 0-3 dell'andata quarto di finale di Coppa Italia che deve essere un obiettivo delle ragazze di Coach Spugna una Roma che in campionato è seconda 34 punti a pari punti col Sassuolo siamo in piena linea con l'obiettivo preliminare di Champions League ricordiamo che il preliminare lo fa chi arriva secondo e siamo a meno 6 dalla Juventus che è prima sognare è lecito anche se come ho sempre detto la Juventus femminile fa un altro campionato hanno avuto una battuta d'arresto con la Fiorentina chissà mai dire mai l'obiettivo comunque la Coppa Italia deve rimanere un obiettivo deve rimanere a Roma dal momento che lo scorso anno l'abbiamo vinta contro il Milan e domani bisogna cercare di centrare la semifinale nonostante si parta da un ottimo risultato dal 3-0 di Como bisogna rimanere concentrate e cercare di portare a casa la vittoria detto questo ragazzi ci siamo detti tutto io vi invito a seguirci sui nostri social su Instagram il legionario su Facebook su Twitter mi raccomando seguiteci per rimanere aggiornati sul nostro sito www.illegionario.info seguiteci sul nostro canale YouTube il legionario dove potete riascoltare tutti i nostri podcast su Spreaker dove potete riascoltare anche sempre tutte le nostre puntate e niente noi ci sentiamo settimana prossima speriamo di assistere a una grande vittoria della Roma domani contro il Sassuolo e sempre sempre forza Roma ciao a tutti